L'interpretazione della Bibbia Prima parte Leggiamo il testo di riferimento in 2 Corinti 4, versetto 2 Rifiutiamo ogni azione segreta e disonesta Non ci comportiamo con malizia e non falsifichiamo la parola di Dio Anzi, facciamo chiaramente conoscere la verità e così presentiamo noi stessi di fronte al giudizio di tutti gli uomini e dinanzi a Dio Sintesi dello studio Cari amici, il testo appena letto ci fa capire subito che anche al tempo apostolico c'era già qualcuno che falsificava la scrittura Cioè dava di essa, volutamente, un'interpretazione non corretta Chi era? O per meglio dire Chi erano? Difficile essere precisi Probabilmente dei cristiani di estrazione ebraica Attaccati ancora ai riti dell'Antico Testamento ormai superati che l'Apostolo Paolo definiva quelli della circoncisione oppure altri che l'Apostolo Pietro chiamava falsi maestri e diffusori di eresie secondo Pietro capitolo 2 versetto 1 e versetto 2 Un tempo in mezzo al popolo di Dio ci furono anche falsi profeti Allo stesso modo verranno tra voi falsi maestri che cercheranno di diffondere eresie disastrose e si metteranno perfino contro il Signore che li ha salvati Il problema quindi non era nuovo se Pietro ricorda un tempo in mezzo al popolo di Dio ci furono anche falsi profeti non soltanto veri profeti ma anche falsi profeti che ovviamente si presentavano come veri profeti ecco il problema c'è la rivelazione ispirata da Dio la Bibbia che è stata data secondo le parole di Gesù per avere la vita eterna Giovanni 5,39 quindi che deve essere letta e naturalmente messa in pratica ma il diavolo per molti l'ha ridotta la Bibbia in un campo di battaglia interpretativa creato apposta per allontanare l'uomo dalla salvezza per capire il messaggio della Bibbia con l'aiuto dello Spirito Santo occorre rimuovere pregiudizi pregiudizi inesattezze tradizioni e evidenti contraddizioni con il testo biblico non è un lavoro facile ve lo anticipo ma è un lavoro possibile fin qui la sintesi dello studio l'approccio sbagliato c'è un approccio sbagliato al problema dell'interpretazione della Bibbia che dividerò in quattro punti eccoli 1 il rifiuto della conoscenza 2 complesso di superiorità e spirito critico 3 il preteso monopolio dell'interpretazione 4 la tradizione vediamoli per esteso uno dopo l'altro 1 il rifiuto della conoscenza prima di tutto vorrei far notare che nelle controversie religiose è evidente la disinformazione se non addirittura la voluta ignoranza della materia in esame si ripetono meccanicamente frasi fatte si va per sentito dire eccetera bisogna mettere nel bilancio la pigrizia mentale umana nella maggioranza delle persone manca la curiosità intellettuale manca l'interesse quasi si temesse di saperne di più la gente si accontenta spaventosamente di quel poco che sa perché forse si rende conto che la conoscenza responsabilizzando l'individuo lo pone di fronte a precise scelte che gli sta fatica a fare molto meglio e più comodo non sapere non porsi problemi non indagare questo in parole povere significa autocondannarsi a una visione assolutamente ristretta non solo delle cose della fede ma delle cose in generale la personalità si sviluppa si arricchisce con la conoscenza e si impoverisce con il rifiuto di essa vi ricordate le parole di Dante considerate la vostra semenza fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza Leonardo da Vinci Cristoforo Colombo Galileo Einstein Edison Marconi solo per fare qualche nome ovviamente insieme a tanti altri prima di tutto furono dei curiosi intellettualmente parlando volevano sapere cercare e cercarono furono degli instancabili nelle loro ricerche incompresi quasi sempre scherniti spesso molto spesso senza soldi ma la loro passione per la conoscenza li aiutò a superare le difficoltà e a raggiungere le loro mete fu proprio Einstein a dire la mente umana è come un paracadute funziona solo se si apre ripeto le parole di Einstein la mente umana è come un paracadute funziona solo se si apre cari amici la conoscenza della Bibbia richiede almeno almeno un po' di passione di spirito di ricerca di curiosità Gesù dice Matteo 7 7 8 chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa cari amici dobbiamo fare come i credenti di Berea i quali dopo aver ascoltato la predicazione di Paolo e Sila ricevettero la parola sta scritto con ogni premura esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così atti 17 11 la versione interconfessionale traduce accolsero la loro predicazione con grande entusiasmo ogni giorno esaminavano le profezie della Bibbia per vedere se le cose stavano come Paolo diceva quindi erano delle persone curiose spiritualmente parlando 2 complesso di superiorità e di spirito critico un secondo approccio sbagliato mi sembra quello di tante persone che si avvicinano alla Bibbia con molta sufficienza e spirito solamente critico di queste persone ne ho viste tante e mi fanno ricordare dei miei compagni di classe quando ero studente che contestavano sistematicamente l'insegnante o gli insegnanti per meglio dire ritenendo di saperne più di lui o più di loro erano soprattutto degli svogliati che con un simile atteggiamento erano condannati a imparare poco o niente e io mi chiedevo che cosa ci facessero lì eravamo in un grande collegio e qualcuno loro o altri aveva pagato avevano pagato una retta scolastica se erano lì per studiare e imparare non era proprio quello il metodo così se vogliamo imparare dobbiamo studiare e studiare seriamente con metodo e con impegno in genere quelli che si permettono di criticare e giudicare la Bibbia o non l'hanno mai letta o hanno leggiucchiato qualche pagina qua e là e stanno a quello che altri altri negativi anche loro dicono della Bibbia mentre si è pronti ad accettare un qualsiasi testo di studio filosofia medicina letteratura matematica linguistica astronomia antropologia economia eccetera eccetera senza fiatare senza fiatare in presenza della Bibbia non si sa perché scattano le obiezioni prima di aprirne le pagine non è logico e non è giusto e comunque con quel sistema se sistema si può chiamare cari amici non si impara proprio niente tre il preteso monopolio dell'interpretazione il preteso monopolio dell'interpretazione della Bibbia è quello della chiesa cattolica romana che asserisce da molti secoli che solo lei solo lei essendo la vera chiesa di Cristo attraverso il suo magistero è in grado di interpretare le sacre scritture essendo guidata dallo Spirito Santo a parte il fatto che questa affermazione fa a pugni con la libertà di pensiero di coscienza di parola e di religione le quattro libertà fondamentali dell'uomo la chiesa cattolica commette un errore di fondo perché la Bibbia è di tutti e per tutti e nessuno ha il diritto di monopolizzarla infatti l'apostolo Pietro raccomanda abbiamo infatti la parola profetica più salda farete bene a prestarle attenzione come ad una lampada splendente in luogo oscuro secondo Pietro 1 19 e rivolgendosi al giovane condiscepolo Timoteo l'apostolo Paolo scriveva tu conosci la sacra Bibbia già da quando eri bambino tutto ciò che è scritto nella Bibbia è ispirato da Dio e quindi è utile per insegnare la verità per convincere per correggere gli errori ed educare a vivere in modo giusto ho letto secondo Timoteo capitolo 3 versetto 15 e 16 ecco l'insegnamento della Bibbia perché dobbiamo leggere la Bibbia perché la Bibbia ci insegna a vivere a vivere in modo giusto in modo corretto da buoni cristiani non ignorare l'esistenza della Bibbia molti lo devo dire con tristezza molti ignorano l'esistenza della Bibbia non ne vogliono sapere perché preferiscono una religione fai da te con tutte le libertà possibili e immaginabili cari amici nel Nuovo Testamento non c'è nessuna traccia di magistero della Chiesa che sia propria della Sacra Scrittura la monopolizza e ne impone l'interpretazione ai fedeli non c'è nessunissima traccia di magistero della Chiesa nel Nuovo Testamento che monopolizza che monopolizza ripeto e ne impone l'interpretazione della scrittura ai fedeli la Chiesa cattolica si vanta di avere salvato le scritture dalle devastazioni delle guerre del Medioevo attraverso attraverso i conventi dove monaci eruditi ne curavano il testo è vero in parte ma nascondendolo ai fedeli in tal modo la Chiesa cattolica ha contribuito a perpetuare il fuoco dell'ignoranza e della superstizione la Chiesa non è stata fondata da Cristo per essere una biblioteca per eruditi perché voi mi insegnate che l'ignoranza è la maestra della superstizione la conoscenza apre la mente dell'uomo arricchisce e forma la sua personalità questa è storia non sono storie il dovere della Chiesa era ed è quello di mettere la Bibbia nelle mani dei fedeli per insegnare la verità come dice Paolo convincere correggere gli errori ed educare a vivere in modo giusto sarà il merito della riforma del sedicesimo secolo quello di mettere la Bibbia in mano a tutti finalmente tutti quanti avevano il diritto e anche il dovere di leggere personalmente la Bibbia e lì nelle chiese disadorne della riforma disadorne perché erano chiese molto semplici molto severe molto evangeliche secondo i principi appunto della Bibbia sulle panche c'era il contadino accanto al letterato c'era il saccente il saputo quello che sapeva leggere e scrivere e c'era quell'altro che imparava a leggere attraverso la Bibbia quindi la Bibbia è cultura è alta cultura ma perché nascondere la Bibbia perché nascondere la Bibbia forse perché c'è qualcosa da nascondere ma che cosa c'è da nascondere la verità brilla non si può nascondere niente occulto dice Gesù che non abbia a essere rivelato la Chiesa cattolica non contenta di arrogarsi il diritto di essere la sola depositaria della rivelazione nel concilio di Tolosa nel 1229 proibì la lettura della Bibbia ai laici condannando all'ignoranza il corpo dei fedeli ignoranza che disgraziatamente perdura perdura fino ad oggi e continua ad andare avanti che la Chiesa permette sì adesso non può farne a meno permette sì la lettura della Bibbia però però è sempre il Magistero che ne deve dare l'interpretazione tutte queste proibizioni tutte queste rivendicazioni di monopolio spirituale a me fanno pensare alla dittatura alle dittature che imbavagliano con la censura con i lager con i gulag o col confino come in Italia nel ventennio fascista attraverso le famose veline del Ministero della Cultura Popolare che ordinavano quello che si doveva e non si doveva pubblicare sui giornali addirittura perfino i titoli degli articoli viva la libertà la vera cultura biblica non deve essere condizionata e intristita da una selva di paletti di divieti di sensi vietati che testimoniano cari amici testimoniano chiaramente solo la paura della verità e del confronto delle idee ma come mai tutti questi divieti ma Gesù ha detto di investigare le scritture perché attraverso le scritture si ha la conoscenza di Gesù le scritture testimoniano di me ma perché ma siamo nel ventunesimo secolo certo e allora e allora è il tempo di studiare è il tempo di ignorare questi paletti questi divieti io ricordo quando tanti anni fa l'Evangelo giunse in casa dei miei genitori mia madre che era una canita lettrice perché avesse fatto soltanto la quinta elementare leggeva moltissimo e allora quando il parroco del paese sconsigliava la lettura della Bibbia e dei libri che c'erano stati portati che parlavano della Bibbia mia madre disse ma come mai quest'uomo è così contrario ma se fossero libracci ma la Bibbia è il libro di Dio ma è quello che dico anch'io ancora dopo tanti anni ma perché ignorare perché vietare quattro la tradizione un approccio sbagliato tira l'altro la Chiesa cattolica rendendosi conto che con la Bibbia soltanto con la Bibbia soltanto non può giustificare i suoi deviazionismi dottrinali nel concilio di Trento tenutosi dal 1545 al 1563 ben 18 anni nella rigida controriforma decretò che la rivelazione non è non è costituita solo solo dalle sacre scritture ma dalle sacre scritture e dalla tradizione dopo avere introdotto i libri apocrifi cioè non ispirati nell'Antico Testamento quindi per avere la rivelazione totale completa non è sufficiente solo la sacra scrittura occorre la tradizione aspettarono 15 secoli per definirlo di cui è ovvio eh sì è ovvio la chiesa cattolica ha la custodia della tradizione quindi eccoli tutti tutti cofani con con chiavi con serature a due tre a quattro a mille mandate non leggere la Bibbia non soltanto il magistero ha questo potere ma come mai come mai tutti questi divieti e poi la Bibbia non è non è la rivelazione di Dio soltanto c'è anche la tradizione insomma due decisioni ad personam fatte apposta per legittimare i dogmi cattolici antibiblici come vedremo che cos'è la tradizione cattolica oggi assomiglia molto a quella ebraica costituita dal commento rabbinico delle sacre scritture che era diventato così accettato e seguito da oscurare il testo stesso delle sacre scritture e Gesù lo rimproverò ai suoi avversari con le famose parole annullando così la parola di Dio con la tradizione che vi siete tramandata Marco capitolo 7 versetto 13 Gesù fu molto severo con la tradizione chiamata degli antichi o degli anziani la tradizione dei rabbini Matteo 15 9 3 in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini e ancora Gesù che parla e ancora perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione sono parole durissime dirette all'uomo che vuole stravolgere la verità cari amici ci aiuti il Signore ad abbandonare gli insegnamenti falsi degli uomini e a seguire gli insegnamenti della Sacra Bibbia leggiamo il testo di riferimento prima Corinzi capitolo 2 versetto 14 ma l'uomo che non ha ricevuto lo spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo spirito di Dio fa conoscere gli sembrano assurdità e non le può comprendere perché devono essere capite in modo spirituale sintesi dello studio cari amici abbiamo stabilito che la Bibbia è per tutti e di tutti e nessuno quindi ha il diritto di monopolizzarne l'interpretazione la Chiesa Cattolica però presenta molto male il libero esame rivendicato dai preriformatori da Lutero e dagli altri riformatori cioè il diritto di ogni uomo e di ogni donna di leggere e capire la Bibbia senza l'intermediario del magistero lo presenta molto male cioè nel senso lo presenta come una libertà di ognuno di fare dire alla Bibbia quello che vuole non è così non è per niente così lo ripeto non è così non è per niente così il testo che abbiamo appena letto dell'Apostolo Paolo sottolinea la cosa essenziale in campo interpretativo biblico cioè le cose della fede le cose di Dio la sua rivelazione le sacre scritture devono essere capite in modo spirituale quindi noi quando ci avviciniamo la Bibbia non dobbiamo avvicinarci con un nostro preteso senso di sufficienza o come noi ci avviciniamo a un qualsiasi altro testo come dicevo prima i problemi sorgono quando ci si avvicina alla Bibbia però la chiave di lettura della Bibbia non è la chiave di lettura di un testo filosofico o storico o astronomico eccetera la cosa essenziale in campo interpretativo biblico è quella sottolineata dall'apostolo Paolo ripeto il testo di riferimento ma l'uomo che non ha ricevuto lo spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo spirito di Dio fa conoscere gli sembrano assurdità e non li può comprendere perché devono essere capite in modo spirituale quindi cari amici il Signore non affida la comprensione della sua volontà a un sedicente infallibile magistero della Chiesa stabilito dagli uomini per niente proprio per niente ma la comprensione della sua volontà al sincero credente che invoca umilmente l'assistenza dello spirito santo quindi non è un magistero che deve stabilire come stanno le cose è il singolo credente aiutato dallo spirito santo a capire il significato della Bibbia e la Bibbia precisa che lo spirito santo i Dio lo ha dato a quelli che gli ubbidiscono atti 5 32 i Dio lo ha dato a quelli che gli ubbidiscono e se qualcuno mi chiede come si fa a capire se uno è in possesso dello spirito santo rispondo subito lo si vede da due cose primo prima di tutto non lo va a strombazzare in giro pretendendo di avere lo spirito santo secondo lo si conosce dai suoi frutti secondo le parole stesse di Gesù in Matteo 7 16 che dicono voi riconoscerete gli uomini dai loro frutti li riconoscerete dai loro frutti anche i falsi profeti e Gesù parla appunto di quelli sono riconosciuti dai loro frutti certo quindi quando uno lo spirito non lo va a strombazzare in giro solo la chiesa solo il magistero della chiesa cattolica ha lo spirito santo lo dice lei lo va dicendo da secoli e poi una persona in possesso in possesso dello spirito santo mostra i frutti dello spirito santo mostra i frutti una vita santa una vita dedicata a Dio il signore cioè illumina solo Geremia 29 13 14 mi cercherete e mi troverete poiché mi cercherete con tutto il cuore io mi lascerò trovare da voi ve lo prometto sono parole di Dio ecco quando noi cerchiamo di fare la volontà del signore cerchiamo ci chiniamo sulla sua parola invocando lo spirito santo il signore ci aiuta a capire la verità il cristianesimo è libertà di pensiero di parola di coscienza di religione non asservimento della mente a un potere religioso che impone il suo modo di vedere troppo spesso contrario sia la lettera sia lo spirito della scrittura la ricerca della verità è fatta anche di autostima difesa della dignità umana e al diritto di opinione che nessuna imposizione potrà mai impedire Gesù dice se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi Giovanni 8 31 32 cari amici non si può arrivare alla verità senza la libertà lo ripeto perché mi sembra molto importante non si può arrivare alla verità senza la libertà fin qui la sintesi dello studio e adesso esaminiamo per esteso il tema l'approccio giusto c'è un approccio giusto logico all'interpretazione della Bibbia e io lo riassumerò questo approccio giusto in quattro punti uno rispettare e leggere la Bibbia due usare il metodo tre alcuni consigli pratici quattro interpretazione fede e ubbidienza uno rispettare e leggere la Bibbia cari amici nessun libro è più grande della Bibbia con tutto il rispetto per gli altri testi delle varie molteplici religioni la Bibbia è il libro più amato e il più bistrattato ma sempre fonte di ispirazione universale impariamo a rispettare la Bibbia facciamo silenzio nella nostra anima siamo in presenza di Dio che parla all'uomo si mettono da parte pigrizia e pregiudizi solo a coloro che si umigliano la mente verrà illuminata perché Dio ovviamente non può benedire i superbi l'Apostolo Pietro raccomanda come bambini appena nati desiderate il latte puro e spirituale per crescere verso la salvezza primo Pietro 2.2 paragona la Bibbia al latte che nutre il bambino lo fa crescere prima cosa da fare quindi dopo avere dimostrato rispetto è quella di passare alla pratica e di leggere la Bibbia assiduamente seconda cosa è quella di ascoltarne il messaggio e in terzo luogo di metterne in pratica gli insegnamenti non è molto difficile da capire è più complesso passare alla parte pratica io da decenni sento persone che ignorano o vogliono ignorare la Bibbia e alla domanda precisa ma scusi lei ha mai letto la Bibbia si capisce che non l'hanno letta o l'hanno come dicevo prima l'hanno leggiucchiata in parte bisogna leggere la Bibbia ma via siamo nel ventunesimo secolo siamo andati sulla luna siamo circondati da scoperte straordinarie ma possibile che non venga la curiosità di vedere che cosa dice il Dio quando parla all'uomo attraverso la Bibbia poi dopo averlo ascoltato si accetta il messaggio e poi si cerca di metterlo in pratica con l'aiuto di Dio Dio non chiede delle cose impossibili dice la Bibbia beato dunque chi legge e chi ascolta questo messaggio profetico e fa tesoro di quanto qui è scritto Apocalisse 1 3 la Bibbia cari amici è il libro della salvezza che ci fa conoscere la verità cioè ci fa conoscere Cristo che è il centro della Bibbia che è il centro della storia la Bibbia ci rivela la verità sull'uomo sulla sua origine sul suo destino sì conoscere la verità per essere protetti dall'errore per smascherare la contraffazione della verità per crescere e spiritualmente e anche intellettualmente secondo punto seguire un metodo l'interpretazione della Bibbia non deve fare paura perché non si deve avere paura di Dio dobbiamo avere il timore di Dio ma quella è un'altra cosa non dobbiamo avere paura di Dio le tante proibizioni e le tante intolleranze religiose hanno alimentato nei secoli ogni sorta di illazioni e di inesattezze sulla Bibbia ancora oggi la gente ne ha paura ritenendolo un libro misterioso se non addirittura pericoloso permesso solo agli iniziati ai sacerdoti appunto cioè ai professionisti della religione come era il caso dei sacerdoti pagani antichi che avevano accesso ai tanti misteri orfici isiaci tracci e così via tanto può l'ignoranza è vero che Giovanni ventitresimo consigliò anche se tardivamente la lettura della Bibbia ai laici che sono però sempre vincolati all'interpretazione del magistero ti pareva è la Chiesa che deve interpretare ascoltiamo il consiglio di una celebre biblista Elena White che dice chi studia la Bibbia deve imparare ad accostarsi ad essa con lo spirito di chi vuole imparare le pagine vanno scrutate non per trovare prove per sostenere le nostre opinioni ma per conoscere quello che Dio dice la vera conoscenza della Bibbia si raggiunge solo grazie all'aiuto di quello spirito lo spirito santo mediante il quale la parola fu data fin qui Elena White vedete come come ritorna questo pensiero la Bibbia la si capisce attraverso l'aiuto dello spirito se non c'è quello la Bibbia rimane un libro che non dice niente o che dice pochissimo o parla soltanto di storia di geografia ma non si capisce il senso profondo della rivelazione il nostro testo di riferimento prima Corinzi 2 versetto 14 vogliamo rileggerlo ma l'uomo che non ha ricevuto lo spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo spirito di Dio fa conoscere gli sembrano assurdità e non le può conoscere perché devono essere capite in modo spirituale allora viene una domanda ma allora questi uomini che hanno composto e compongono il magistero della chiesa fanno o non fanno la volontà di Dio hanno o non hanno lo spirito di Dio è lecito chiederselo quando una chiesa fa una simile affermazione categorica che non muta nei secoli in questi tempi di revisionismi culturali di discussioni di domande eccetera perché non deve essere lecito farsi questa domanda visto che solo attraverso lo spirito si può capire la Bibbia ma sul serio però non attraverso preparazione teologica che si vuole anche ho detto anche perché il Signore illumina anche un agricoltore che non ha fatto studi il Signore aiuta un operaio che non ha fatto studi che forse ne sa più di tanti teologi in auge che pretendono di detenere il magistero della chiesa è lecito farsi queste domande ma questi uomini ce l'hanno lo spirito e allora che lo dimostrino invece c'è tanta corsa al potere c'è tanta voglia di comandare di esclusivismo e questi sarebbero i frutti dello Spirito Santo è una domanda che io faccio siamo in un mondo libero quindi il password cioè la chiave per penetrare il senso profondo della Bibbia è lo Spirito Santo dato a ogni uomo e a ogni donna di buona volontà quindi ripetiamo nessun privilegio di casta nessun gruppo di potere che imponga ai fedeli la sua visione delle cose la Bibbia è di tutti e per tutti e si rivolge a tutti individualmente lo ripetiamo la Bibbia è di tutti e per tutti e si rivolge a tutti individualmente una legge letteraria che va rispettata anche nello studio della Bibbia è quella di non isolare un testo dal contesto per non pregiudicarne completamente il significato un esempio classico è quello offerto dai salmi 14 e 53 che a un certo punto se isolati dal contesto negano l'esistenza di Dio sono due salmi di Davide al versetto 1 di entrambi questi salmi 14 e 53 c'è scritto non c'è Dio però le parole che precedono dicono lo stolto ha detto in cuor suo due punti non c'è Dio mi sembra chiaro no? bisogna anche tener conto di altri fattori importanti del tempo del momento in cui il testo è stato scritto delle ragioni per cui fu scritto eccetera un altro famoso biblista Alfredo Felice Voce richiama l'attenzione su un fattore molto importante l'insegnamento biblico presenta una notevole unità tutti gli scrittori che hanno contribuito alla formazione del testo sacro hanno attinto alla stessa sorgente e hanno sentito l'influsso dello spirito dello stesso spirito fin qui Voce quindi vedete come ritorna costantemente il pensiero della chiave per capire la Bibbia lo spirito santo la Bibbia è una piccola biblioteca di 66 libri libri che non si contraddicono l'antico testamento rimanda all'uovo e l'uovo rimanda all'antico 3 alcuni suggerimenti pratici sarà bene leggere prima i quattro evangeli Matteo Marco Luca e Giovanni poi gli atti degli apostoli poi le epistole poi i salmi i proverbi l'ecclesiaste poi il Pentateuco quindi i libri storici i profeti e per finire Daniele e l'Apocalisse lo abbiamo detto il centro di tutta la Bibbia è Cristo e tutte le profezie dell'antico e del nuovo testamento descrivono il suo ministero di salvatore dell'uomo e poi il suo trionfale ritorno sulla terra alla fine dell'età presente non dimentichiamo una cosa molto importante prima di incominciare la lettura del libro sacro dobbiamo pregare pregare il Signore di accordarci la luce del suo spirito per comprenderne il messaggio che è lo ripetiamo un messaggio di salvezza cioè di vita eterna come per vivere fisicamente noi abbiamo bisogno di buon cibo e di buona acqua così per vivere spiritualmente abbiamo bisogno di Gesù Cristo il vero pane e la vera acqua pane della vita e l'acqua e l'acqua della vita come dobbiamo nutrirci ogni giorno per vivere così ogni giorno abbiamo bisogno di Cristo dobbiamo leggere la Bibbia e accettare il messaggio la comprensione della Bibbia va ben oltre cari amici il significato linguistico letterario storico eccetera al quale purtroppo molti si fermano quindi se vogliamo che la parola di Dio sprigioni tutta la sua potenza dobbiamo fare tabula rasa delle speculazioni umane impastate di tradizioni tanto ambite da coloro che fanno dello studio della Bibbia una palestra di esibizionismo teologico di predominio intellettuale di geloso esclusivismo di bigottismo e di orgoglio delirante le pagine difficili della Bibbia devono stimolare il nostro spirito di ricerca i tesori racchiusi dalla terra non sono quasi mai in superficie e bisogna scavare e scavare profondo con metodo e con impegno per averli e non dimentichiamo che la Bibbia si spiega con la Bibbia e adesso l'ultimo punto interpretazione fede e obbedienza cari amici l'interpretazione della Bibbia non può prescindere dall'atteggiamento mentale di chi la legge le motivazioni che ci spingono a fare qualcosa sono più importanti della cosa stessa lo ripeto le motivazioni che ci spingono a fare qualcosa sono più importanti della cosa stessa Dio chiede la fede cioè chiede di essere creduto e accettato dall'uomo la Bibbia afferma nessuno può essere gradito a Dio se non ha la fede infatti chi si avvicina a Dio deve credere che Dio esiste e ricompensa quelli che lo cercano ebrei 11 versetto 6 dobbiamo partire dal punto giusto con il piede giusto se uno non ha un minimo di fede Dio accorda questa fede a tutti a tutti i sinceri se non ha un minimo di fede non capirà mai né la Bibbia e non capirà mai neanche tante altre cose perché è prigioniero della sua superbia e della sua sufficienza del suo orgoglio e la fede si trova proprio nella Bibbia non solo letta ma creduta e accettata non solo letta ma creduta e accettata leggiamo Romani 10 versetto 17 la fede dipende dall'ascolto della predicazione ma l'ascolto è possibile se c'è chi predica Cristo in mezzo a tante tradizioni in mezzo a tante imposture c'è ancora chi predica Cristo perché Cristo è lo stesso ieri oggi è in eterno molti teologi purtroppo hanno trasformato lo studio della Bibbia in un problema di cultura in un'accademia che evidenzi i loro talenti evidenzia diciamo meglio i loro talenti e i loro difetti li mostra chiaramente comunque evidenzia i loro limiti la Bibbia non è stata data per questo figuriamoci la Bibbia è l'ascolto di Dio che parla ci fa conoscere la sua volontà quindi ci porta all'ubbidienza alla ricerca della santità altro che accademia la giusta interpretazione della Bibbia è sempre quella enunciata da Paolo lo ripeto l'uomo che non ha ricevuto lo spirito di Dio non è in grado di accogliere la verità che lo spirito di Dio fa conoscere cari amici prendere o lasciare non può capire le verità di Dio l'uomo che respinge lo spirito santo gli sembrano delle assurdità dice Paolo e non li può conoscere perché devono essere capite in modo spirituale vi ricordo le parole di Gesù ai Sadducei cari amici parole molto severe che erano l'elite teologica di Israele voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio Matteo capitolo 22 versetto 23 ai teologi del tempo ai più qualificati ai più riveriti disse voi errate voi vi sbagliate perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio ma come ma si erano laureati in teologia si può essere laureati in teologia e non capire non conoscere le scritture lo spirito della scrittura lo spirito della Bibbia né la potenza di Dio ricordiamoci anche le severe parole di Gesù nel giorno del giudizio le parole che Gesù pronunzierà contro i falsi profetti che tenteranno di mettere davanti al giudice supremo i loro pretesi meriti non tutti quelli che dicono Signore Signore entreranno nel regno di Dio dice Gesù vi entreranno soltanto quelli che fanno la volontà di Dio del Padre mio che è nel cielo quando verrà il giorno del giudizio molti mi diranno Signore Signore Tu sai che noi abbiamo parlato a Tuo nome e invocando il Tuo nome abbiamo scacciato i demoni e abbiamo fatto molti miracoli ma allora io dirò non vi ho mai conosciuti andate via da me gente malvagia Matteo 7 21 a 23 cari amici Dio rivela o nasconde la verità dipende da come ci poniamo come uomini e donne davanti a Lui e Gesù disse ti ringrazio Padre Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai fatti conoscere ai piccoli Matteo 11 25 26 cari amici il Signore ci aiuti ad essere piccoli Amen conoscere